Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Il nome di Dio il Clemente e il Misericordioso Cari ascoltatori, il nostro sermone oggi porta il titolo Zaka, beneficenza e il loro effetto sulla comunità Ma prima di tutto sia ludato Allah, Signore dell'Universo Che dice nel suo nobile libro, Corano E svolgi Salah baga Zaka, inchinati con coloro che si inchinano E testimonio che non c'è Dio all'infuori di Allah L'uno senza alcun associato e che il nostro maestro Muhammad E il suo messaggero è inviato O Allah, concede la tua salvezza a lui e alla sua famiglia Ai suoi compagni e a coloro che li seguono con rettitudine Fino all'ultimo giorno Cari ascoltatori La sharia islamica stabilisce per le persone un sistema sociale Risolvibile, basato sull'induligenza La coerenza e la solidarietà Il profeta Muhammad, bacio e benedizione di Allah Sudolui, dice La parabola dei credenti in materia di interaffiziazione Interclimenza e simpatia reciproca È quella di un unico corpo di cui, quando un membro soffre Gli altri lo consigliano Svegliandosi, lamentando dalla febbre Dice anche Gli asciariti in caso di imboverimento o in guerra o in città Raccoglievano ciò che avevano in un'unica veste E poi lo distribuivano equamente a ciascuno di loro Sono da me e io sono da loro Pertanto l'islam leggifera Zaka e ne ha fatto uno dei suoi pilastri Esorta le opere di carità e le fecce tra le grandi vie del bene Che possono contribuire a soddisfare i bisogni dei bisognosi E a disappare la loro svintura Allah, gloria a lui, dice Prendi dalle loro ricchezze una carità con la quale purifichi ed elive loro Seguitando nel merito anche Tutto ciò che spendi lui lo sostituisce Lui, Allah, è il miglior provveditore E il profeta Muhammad, baci e benedizione di Allah su di lui Disse L'islam si basa su cinque pilastri Il fatto di attestare che non c'è Dio all'infuori di Allah E che Muhammad è il messaggero di Allah Ed eseguire il salat, bagare Zaka Osservare il digiuno del mese di Ramadan E di compiere il belligrenaggio alla Sacra Moschia Per chi ne ha i mezzi Chiunque mediti sul nobile Corano Si renderà conto che in diversi passaggi Associa Zaka al più grande e sublime obbligo In questo caso Salah Di amplificarne l'importanza e solicitarne l'esecuzione Allah, gloria a lui, dice E fate il salat e bagate Zaka E hanno certezza nell'aldilà Inoltre Sharia mette in guardia contro la rinuncia a Zaka Allah, gloria a lui, dice Quelli che avveramente costudiscono ciò che Allah dà loro Da loro per sua grazia Non lo considerano un bene per loro Al contrario è un male per loro Nel giorno dell'aldilà Oppure nell'ultimo giorno Saranno legati al collo che hanno costruito con avarizia E Allah che ha le eredità dei cieli e della terra E Allah è conoscitore di ciò che fate E a coloro che accumulano oro e argento E non li spendono nella via di Allah Annunciate una punizione dolorosa Nel giorno in cui questi tesori Saranno incandescenti nel fuoco dell'inferno E saranno cautirizzati Fronte, fianchi e dorso Questo vi siete accapparati A sabor a ciò che accumuli Abdullah ibn Abbas Che Allah sia soddisfatto di lui e di suo padre Disse Ci sono tre versi inseparabili su tre Uno non deve essere accettato senza l'altro E obbedisce ad Allah e obbedisce al suo messaggero Muhammad Chiunque obbedisca ad Allah senza obbedire al messaggero La sua obbedienza è rispinta Esegui salah e paga zakah Chi esegui salah senza bagare zakah Non sarebbe accettabile per lui Sii grato a me e a tuo padre e a tua madre Colui che sente gratitudine ad Allah Senza provarla verso suo padre e sua madre La sua gratitudine li sarebbe negata Indubbiamente le enti di beneficenza Rafforzano il ruolo comunitario di zakah Quindi la pura sharia lo sollicita E lo incoraggia Il profeta Muhammad D'asce e prevenzione dall'asso di Lugia Disse Nei beni ci sono dei diritti Oltre a zakah Boy ricitò il versetto La mia gentilezza non consiste nel volgere il viso verso l'Oriente O Occidente Ma la mia bontà è credere in Allah Nell'ultimo giorno Nelle angeli Nel libro E nei profeti Dare dei propri beni Tutto l'amore che si ha Ai propri cari Agli orfani Ai viaggatori bisognosi Indigenti E a coloro che chiedono aiuto E allentare i giochi Eseguire salah E bagare zakah Seguiamo nel merito Lode Ma prima di tutto Lode ad Allah Signore dell'universo Che la bacia e le prevenzioni di Allah Siano l'ultimo dei profeti e messaggeri Il nostro maestro Muhammad Baccia e le prevenzioni di Allah Su di Lugia La sua famiglia E tutti i suoi compagni Zakah E la beneficenza Hanno grandi frutti Tra cui la benedizione E l'immensa retribuzione Allah Gloria a lui dice Allah schiaccia l'interesse usuario E aumenta la ricombenza della carità Dice anche Coloro che hanno fede Hanno fatto buone opere Eseguito salah E bagato zakah Avranno certamente la loro ricombenza Presso il loro signore Non hanno paura per loro Ne saranno afflitti Anche in questo riguardo Il profeta Muhammad Disse Ogni giorno al mattino Scendono due angeli dal cielo Uno dice Oh Allah Dai un'immensa ricompensa A chi spende denaro L'altro dice Oh Allah Causa perdita A chi indulge Alla parsimonia E anche una delle cause Della buona salute Il profeta Il profeta Muhammad dice Cercate la guarigione Per i vostri malati Tramite gli atti di beneficenza Conservate i vostri beni Con zakah E nelle prove Preparate Subbliche Dice anche La carità Spegne l'ira Di Allah E previene La morte malvagia Zakah Svolge anche un ruolo Importante nel raggiungimento Dell'equilibrio E dello sviluppo Della comunità La questione È più ampia In termini Di enti di beneficenza Pubblici Sostenibili Sotto forma Di progetti Iniziative Cettiamo I progetti Di buoni Di sacrificio Quelli di cibo I progetti Di abbigliamento E il rebristino Di habitat La fornitura Di opportunità Di lavoro Tra gli altri Modi Di bene Che contribuiscono A svolgere L'assistenza Umanitaria Alle famiglie Più povere E lo sviluppo Comunitario Delle zone Più Meritevoli C'è quindi Un gran bisogno Di realizzare I sensi Della Pia Pontà Dell'allianza E della solidarietà Comunitaria Affinché Peni L'amore Si imponga Il benessere E si realizzi Lo sviluppo Infine Oh Allah Preserva Il nostro paese Egitto E tutti i paesi Del mondo Grazie Dell'ascolto